Per il periodo natalizio abbiamo pensato una serie di attività ad hoc per far vivere ai nostri clienti, a tutti i cittadini e soprattutto ai bambini la magia del Natale. Tutti i giorni sarà Natale ma i weekend saranno magici, a partire dalla casetta di Babbo Natale dove tutti i weekend Babbo Natale in persona vi aspetterà per la consegna delle letterine e per fare insieme una fotografia. Inoltre sempre tutti i weekend ci saranno diversi laboratori ai quali i bambini potranno partecipare. Il primo tra tutti è sicuramente quello della letterina di Babbo Natale dove attraverso l'aiuto degli elfi di Babbo Natale ci sarà la possibilità di scrivere la letterina e poi di consegnarla alla casetta e a Babbo Natale che abbiamo appena visto. Regaleremo ad ogni bambino un piccolo albero di Natale e lo rinvaseremo in un vaso leggermente più grande. Questa iniziativa oltre a far mettere le mani nella terra i bambini ha l'obiettivo di sensibilizzarli sul rispetto della natura. Eccoci davanti al presepe con figura a grandezza naturale dove tutti i weekend i bambini troveranno un piccolo pony e una dolce cavallina. Ci sarà la possibilità di fare un giro a cavallo all'interno del santo presepe e di fare anche una foto davanti alla natività. E tutto questo in collaborazione con il Pino Rence. La novità di quest'anno è la collaborazione con la Zero Limits di Pesaro in Via degli Abeti numero 10 che ci ha consegnato dei fantastici trattorini e abbiamo insieme realizzato la Zero Limits Tractor Track. Una pista per bambini dove cercheranno di arrivare fino all'arrivo attraverso un percorso non facile. In sella ha dei fantastici piccoli trattori da spingere o con cui pedalare. E per tutti i bambini tanti piccoli animaletti da scoprire come questa dolce gallina moroseta dal suo nome moro per via della pelle completamente nera e seta per il piumaggio particolarmente bianco e morbido. Oltre le tantissime iniziative che abbiamo appena visto, laboratori e attività per i bambini, per i più grandi abbiamo anche un ampio showroom natalizio con tantissime decorazioni, alberi, palline, lanterne lavorate artigianalmente, centro tavola e soprattutto tantissime piante perché questa è la nostra natura. Vi aspetto qui al Garden Center Florio di Pesaro perché tutti i giorni sarà Natale, ma i weekend saranno magici e attenzione perché potrebbe nevicare!